Problemi idrici al comune di Augusta, la cittadinanza lamenta una forte torbidità per quanto riguarda l'acqua che fuoriesce dai rubinetti delle proprie abitazioni e dopo le proteste degli ultimi giorni con lo sciopro della fame di un cittadino, adesso è la volta di un altro residente della zona di Augusta Centro che ha deciso di incatenarsi davanti agli uffici tecnici della comune di Augusta, vediamo di capirne qualcosa di più Buongiorno a tutti, il motivo di questo gesto è la mancata comunicazione da parte dell'amministrazione, non si può comunicare sui social perché ci sono anziani che non vanno sui social non usano la tecnologia, vorrei avanzare delle richieste, una richiesta è sapere quando arriva questa benedetta pompa che tipo di lavoro hanno intenzione di svolgere, vogliamo chiarezza e trasparenza, la trasparenza che hanno tanto decandato in campagna elettorale ma che poi non si è vista per niente, un'altra richiesta che volevo fare è che il sindaco faccia dei manifesti dove gli attacchi dove dice che l'acqua è non potabile e anche nelle fontanelle come fanno in tutti i comuni d'Italia, solo da Augusta si vedono queste cose Voi in famiglia quanti siete come numero di persone? Noi siamo 4 Ci sono anche degli anziani o dei disabili? No ma io non ho problemi in famiglia, io abito al mondo, ho la mia trivella personale, io mi faccio promotore per tutti gli anziani che stanno vivendo questo problema per i disabili, per chi ha degli ammalati Ma è proprio vero che l'acqua è così torbida? E' l'acqua presa da questa mattina in una tipografia di fronte alla piazza di San Domenico, di fronte alla chiesa di San Domenico, presa questa mattina Se qualcuno mi vuole smentire ci andiamo insieme e la andiamo a prendere e gliela faccio vedere Sì rimarrò qui fino a quando non vengono dei tecnici, qualcuno dell'amministrazione che vengano a darci chiarimenti, io faccio portavoce di tutti Quindi verranno magari a chiedere quali sono le sue richieste e cosa si può fare in merito a questa... Vogliamo trasparenza, chiarezza Sono disposto anche se oggi di mattina non ho risposte, rimarrò qui fino a stasera quando fa buio e inizierò pure uno sciopro della fama Esatto, io abito in centro storico, come la maggior parte delle persone che stanno in centro storico Abbiamo da circa 80 giorni un problema che ci assilla, che è l'acqua Un'acqua che è da ultimo comunicato è utilizzabile solo per gli scarichi igienici Quindi ad oggi ci dicono se la volete utilizzare, anche qualora uscisse limpida e a vostro discapito L'acqua praticamente subisce delle variazioni dal torbido al fangoso Talvolta limpida, ma è comunque un'acqua non potabile perché ad oggi nessuno ci ha comunicato che possiamo riutilizzare quest'acqua Voi come vi state attrezzando in questo senso? Bottiglie di acqua compiate al supermercato Quindi c'è una spesa abbastanza numerosa per ogni famiglia Ovviamente, ma non solo, è aumentata anche la plastica in un comune paradossalmente che ci ha invitato a fare una differenziata Noi abbiamo praticamente triplicato, quadruplicato l'utilizzo della plastica Ma questo è il disagio ultimo che abbiamo Il maggiore disagio che abbiamo è che noi, perlomeno giovani, riusciamo a collegarci all'internet e a sapere le notizie Anche se ultimamente le informazioni non ce n'è più Pensiamo ad anziani, alla quale nessuno, che magari sono soli e ha detto non potete utilizzare quest'acqua E che si ritrovano l'acqua, che esce fango Pensiamo ad allettati, pensiamo a bambini neonati 80 giorni siamo, da 80 giorni siamo in questa situazione Si può pensare ad avere un ritorno economico da parte del comune per quanto riguarda il pagamento dell'acqua? Probabilmente sì, affidandosi a un buon legale sì, sicuramente Perché abbiamo diritto ad essere eserciti, perché c'è stato un disagio vero e proprio Lo stiamo vivendo, toccando con mano Insomma, non potersi lavare ad oggi, non poter lavare gli utensili che utilizzi per mangiare È qualcosa di veramente, umanamente impossibile da tollerare Che cosa chiedete al comune di Augusta per questo problema? Per la risoluzione del problema? Innanzitutto l'acqua che ritorni potabile Io non penso che sia impossibile nel 2020 parlare di acqua potabile E poi la pompa, si parla tanto di una pompa, non sappiamo quando arriva Quando inizieranno i lavori per questa pompa Insomma, quando riavremo l'acqua, vogliamo sapere Michele Cacciaguerra, un altro residente di Augusta Centro che vuole dare la sua testimonianza a questo problema idrico di Augusta Sono venuto a conoscenza che la settimana scorsa, dato che c'è l'urgenza E' stata presa una pompa, ordinata una pompa a Palermo Per fare il rilancio dell'acqua Ma a tutt'oggi questa pompa, dove è? In una vecchia amministrazione, nelle vecchie amministrazioni Quando non funzionava l'assessore veniva buttato fuori Ad Augusta questo non avviene E' stata presa una pompa, non sappiamo